Il Ministero di Cultura è arrivato a un traietto di rinnovare un museo e un edificio monumentale all'interno di nostra isla, per essere ringraziato la nostra cultura. E' questa forma, qui sta facendo un esforzo grande per conservare la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità. San Nicolà sta ricco nella storia, nella costumbre e nella nostra tradizione. Da di un quadro, il Ministero di Cultura è un forza con il settore turistico per mirare come si può lograre, non solo per restaurare gli edifici, ma anche per creare attività e flusso di visitanti interi. Il Ministero di Cultura è un progetto di San Nicolà, per esempio l'Industri Museum, che si sta facendo un monumento restaurato che si conosce come Waterton, c'è un edificio che conta la storia, non solo di San Nicolà, ma della storia di Arruva. Un altro progetto è il Community Museum, con la sala europea di imprensa di Sigi Ribesaki, che si sta facendo un altro anno, in giro, dove il progetto è che l'accomplice di restaurazione. In un community museum, con le nostre cose, l'ex Nicolà Stor, con la storia di storia è rica. Stegte i monumenti e fondi a comprare l'edificio di Nicolà Stor, per la famiglia Nicolà, ma più o meno un anno passato. Nel momento, con l'arriba, lo abbiamo un museo, però abbiamo un attrazione per il pubblico. Il progetto di San Nicolà, lo incluì un carnaval museum del anno 2017. Varios altri edifici e idee non creativi, tour per promuovere più cultura, più arte e artesanità. Il progetto di San Nicolà Stor è un progetto di San Nicolà Stor, per la famiglia di San Nicolà Stor. Il progetto di San Nicolà Stor è importante conservare l'edificio di San Nicolà Stor di San Nicolà Stor.